Il Torneo delle Nazioni, calcio giovanile per nazionali e anche Business Care, un'opportunità concreta di promozione dei partner dell'evento. Business Care punta a creare una squadra vincente dove tutti i partner sono protagonisti attivi attraverso i loro brand, servizi e prodotti. Sostieni il Torneo delle Nazioni, aderisci a Business Care.